I benefici della TAV maggiori dei costi, dicono gli industriali, per il presidente di Confindustria Boccia, la ferrovia Torino-Lione, un'opera che guarda il futuro. Industriali chiamati a raccolta Torino oggi per dire al governo che l'alta velocità Torino-Lione si deve fare. C'era anche il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia. Fabrizio Patti. La TAV va fatta perché conviene, dal punto di vista economico e ambientale. A dirlo oggi 200 imprenditori del Nord Italia all'Unione Industriale di Torino. Tra loro il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia. C'è un ritorno addirittura già nella fase di cantiere dell'investimento, un effetto sull'economia reale, una riduzione dei tir sull'autostrada e quindi una grande attenzione al rispetto dell'ambiente. Il ministro Tria, che è un autorevolissimo esponente del governo, ha già dato un primo segnale. Credo che andremo in questa direzione. Pacta servanda sunt, le condizioni non si possono cambiare. Gli industriali poi hanno chiesto di non giudicare l'opera in base all'analisi costi-benefici a 20 anni, ma di guardare ai prossimi 100 o 200 anni. Grazie. Grazie. Grazie.